Musica Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento con i Bianchi e Rosso TV Sport che oggi diventa un Bianchi e Rosso azzurro perché insomma c'è la nazionale a Bari e in arrivo la nazionale a Bari, oggi atterrerà alle 18.30 all'aeroporto Carlo Ruitiva di Palese poi alle 19.15 la conferenza stampa di Spalletti con un tesserato ma avremo anche i giocatori allo stadio San Nicola per la classica passeggiata che precede le gare internazionali è chiaro che è una vigilia molto turbata da quello che sta avvenendo al calcio italiano uno tsunami legato al capitolo scommesse che ha colpito nel cuore proprio la nazionale con il blizz di ieri della polizia nel ritiro di Coverciano e con due azzurri Tonali e Zagnolo che sono tornati a casa dopo aver ricevuto un avviso di garanzia davvero uno scenario inquietante insomma perché parliamo di ragazzi affermati di ragazzi che rischiano di vedersi compromessa una carriera in discesa staremo a vedere ovviamente aspettiamo che la magistratura e la giustizia sportiva facciano il loro corso per intanto proiettiamoci su questo Italia-Malta si gioca domani alle 20.45 a San Nicola siamo un po' tutti vestiti d'azzurro involontariamente o quasi oltre al sottoscritto un saluto al senatore Filippo Melchiorre barese buona buona serata a tutti buon poveriggio a tutti fautore della candidatura italiana per gli europei del 2032 che si giocheranno in Italia e in Turchia ne parliamo tra poco e poi l'amico Luca Scandale direttore di Puglia promozione che ha associato ancora una volta il proprio marchio a un grande evento di sport ne abbiamo parlato in fiera e la storia si è ripetuta perché sport e promozione del territorio vanno di pari passo dopo il ciclismo la palla a volo adesso anche la nazionale di Puglia lei non si è vestita d'azzurro perché in realtà non è italiana è spagnola no non c'entra niente non è stato fatto appositamente e allora esibisci la maglia che ci ha prestato il museo del Bacchia che maglia guarda ti do anche la mia ringrazio Alex Guarini che non è inquadrato ma i ragazzi del museo del Bacchia sono l'ospedale di trasmissione Roberto Baggio qua parliamo di una leggenda assoluta un giocatore se ne fossero oggi di Roberto Baggio oltre al fatto che al di là dell'atleta non Filippo parliamo di un uomo straordinario di un uomo straordinario insegnato valori e beh hai detto bene prima ancora dei giocatori c'è bisogno di costruire l'uomo e quindi il calcio dovrebbe servire a questo poi lo riprenderemo immagino nel assolutamente io associo a Roberto Baggio la parola poesia 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 calcisticamente poetico peraltro un calciatore che lo ricordiamo insomma ha superato anche degli infortuni terribili insomma si è rimessi in piedi e ci ha regalato momenti di grandissima emozione altra magia perché qua parliamo di un altro fuoriclasse assoluto campione del mondo altro dieci chi è? Gira la maglia Francesco Totti queste sono maglie originali della Nazionale originali in dotazione del Museo del Bari che oltre ad avere tantissime maglie bianco-rossi hanno una sezione dedicata anche agli azzurri e questa è la maglia di Francesco Totti un modo inestimabile inestimabile bellissimo e poi magari non un giocatore all'altezza di tutti gli altri ma parliamo di un campione d'Europa perché parliamo di numero 22 Roberto Insigne maglia numero 22 e questa è una maglia più recente della Nazionale Jessica ormai abbi cura di queste maglie le porterei sulle tue gambe per tutta la trasmissione va bene? ok ve li mostrerò prossimamente prossimamente 080 501 999 8 per le vostre telefonate però parto dal senatore Filippo Melchiorre la gara di domani ci fa sognare anche altro perché è vero che ce ne vuole di tempo 2032 gli europei fra tre anni si scelgono le città dove si giocheranno gli europei peraltro 10 gli stadi 5 in Turchia 5 in Italia sei fiducioso oppure la concorrenza è molto forte parliamo delle città con le squadre più forti d'Italia allora quando a marzo come tu hai avuto modo di segnalarlo già durante le trasmissioni precedenti portai quell'atto assegnato che in gergo diciamo parlamentare significa portare un atto col quale chiedere a tutte le forze politiche di poter candidare l'Italia anche lì eravamo in salita perché mettere insieme tutti quanti voglio ricordare che delle forze politiche che oggi rappresentano l'opposizione le olimpiadi a Roma non le hanno volute fare quindi convincere tutti quanti e fare in modo che tutti quanti potessero votare anche lì eravamo come dire come tutte le esperienze diciamo di tutti i tipi bisogna essere adrenalitici cioè bisogna per puntare l'obiettivo bisogna come dire lavorare combattere e noi come dire siamo abituati a combattere affinché tra i 10 stati ci sia quello di Bari ovviamente adesso una buona parte la deve fare il sindaco di Bari e chi si occupa come dire della struttura stadio noi faremo la nostra parte però chiedo anzi colgo quest'occasione autorevole per poter chiedere al sindaco come dire di accelerare tutto quello che c'è da fare per rendere lo stadio di Bari tra i candidabili e noi faremo la nostra parte domani ne parleremo anche con il presidente Gravino scelta la strada della divisione di onore e onere con la Turchia e beh perché sicuramente la Turchia ha gli stadi più belli sicuramente sì noi abbiamo l'Italia noi abbiamo la Floria ne parlavamo prima noi abbiamo tante cose di cui come dire vantarci la Turchia meno però gli stadi sono più come dire oggi capaci di poter ospitare un europeo l'Italia un po' meno diciamo ci sono degli impianti vetusti sono obsoleti ecco perché è importante fare in modo ripeto che Bari rientri tra le cinque città l'Italia come parlamentare come senatore l'Italia il primo obiettivo era l'Italia adesso consentitemi Bari per me insomma ci mancherebbe assolutamente allora Luca Luca Scandale abbiamo detto che Puglia Promozione associa il proprio marchio anche a questo evento hai il segno tangibile di un riscontro che cosa accade la gente vuol capire quando Puglia Promozione quindi la regione si fa carico in qualche modo di promuovere che cosa accade realmente che numeri che riscontro l'obiettivo qual è ma guarda noi abbiamo un mediaplan in Italia ed estero molto importante dal punto di vista estero siamo su CNN New York Times BBC adesso non voglio raccontare tutto ciò che noi facciamo dal punto di vista del marketing internazionale sul mediaplan estero si sono candidate le federazioni si è candidata la nazionale italiana di ciclismo con l'hashtag We are in Puglia ha disputato il mondiale e quello è legato a un settore del turismo del bike ne parlavamo con Filippo che è sicuramente una di quelle cose che fa raccontare la Puglia in maniera differente poi ci sono stati gli europei di pallavolo avete visto la scritta di Fefe De Giorgi anche se sono arrivati i secondi sostanzialmente sono una grandissima più a Bani che il palazzetto ha vissuto delle emozioni clamorose bellissima l'atmosfera nel palazzetto e lì avevamo il cosiddetto bordo campo che abbiamo anche quest'anno con la nazionale di calcio e poi molto marketing anche sui social nel senso che i giocatori si sono prestati a fare delle iniziative interessanti di concerto con Puglia la promozione e allora io ho dei video quiz sulla Puglia è una di queste? c'è un video quiz sulla Puglia con Acerbi prego la regia di mandarlo in onda Acerbi che interroga Orsolini e Locatelli è una cosa molto divertente con Acerbi che appunto fa il professore e gli altri che rispondono alle domande come dire di conoscenza della nostra regione vediamo questo video quale tra questi ingredienti è presente nella preparazione del tarallo A latte B rum C vino bianco scrivete 10 9 8 avete risposto? fate vedere per favore io ho scritto vino bianco C esatto bravo manu bravissimo in quale località si conclude la notte della 40 a grottaglie b melpignano c taranto avete finito? sì sbagliato è giusto è giusto perché la notte è taranto per quanti chilometri si estende la costa pugliese chilometri a 830 b 655 c 940 come? a b o c 430 chilometri a 655 940 la c a puglia completamente scontrare cioè hai indovinato Locatelli ancora 940 chilometri beh ma è chiaro è lunghissimo lo stivale quale di questi è un tipico vitigno pugliese? a Pioviustra Miner b Negra Amaro c Nero D'Avola esatto è il cantario no sicuro bravissimo perché eh? è bene chi ha progettato lo stadio San Nicola di Bari a Santiago Calatrava b Zaa Adid c Renzo Piano vabbè c bravi Renzo Piano il San Nicola è stato progettato da Renzo Piano per i mondiali d'Italia del 90 e per questa puntata abbiamo finito andate in pace e ci vedremo alla prossima grazie prof ma prego ho perso avendo il punto adesso Jessica fanno cose molto simili alle tue molto simili a tutto campo esatto è stato molto divertente devo dire la verità si vede che comunque sono bravi col vino hanno assaggiato il vino pugliese andiamo in posta pubblicitaria e poi parliamo anche dei grandi numeri di questa partita perché si va davvero verso il tutto esaurito e io credo che con tutto il rispetto per Malta io credo che altrove Italia contro Malta difficilmente avrebbero fatto 55 mila spettatori sono d'accordo è vero o no è stato che sia un fatto forse unico è perché abbiamo fame di beccato troppa fame ma quanta fame ma troppa siamo affamati quanta fame pubblicità poi dirlo insieme quando è il momento di cambiare il mondo quando è il momento di cambiare auto Suzuki tecnologia da incentivi Suzuki solo da Car Service Bari Viale Iatige 243 Bari Suzuki Car Service Bari nel cuore di Bari ti appassionano la tecnologia l'innovazione la meccatronica hai un diploma? l'ITS Cuccovillo modello nazionale nella formazione post diploma con oltre 70 aziende partner ti aspetta nei corsi a Bari Brindisi Lecce Taranto Altamura e Andrea con i nuovi corsi interamente finanziati potrai specializzarti nei settori automotive biomedicale automazione ferroviario siderurgico dell'industria 4.0 del sistema idrico e del sistema casa ITS meccatronicapuglia.it ITS Cuccovillo il futuro ora questa è una storia che conosci già è una storia di valori una storia di qualità una storia di vicinanza una storia di convenienza una storia di amicizia una storia che diventa ogni giorno più forte che mai prodotti a marchio Sigma nella tua storia da sempre nella tua spesa da sempre scopri i nostri negozi e le nostre offerte su www.sigmapuglia.lombardi.it segui supermercati Sigma Puglia su Facebook e Instagram Bentornato City Cashback a City Moda fai shopping accumula punti e ricevi oltre al 10% City Card fino al 20% in buono sulle collezioni autunno-inverno 23-24 seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia oppure su Facebook Intanto continuano a spuntare i nomi legati all'inchiesta della Procura di Torino sulle scommesse nel calcio il quarto nome questo l'anticipato ancora una volta Fabrizio Corone è quello di Zaleschi difensore della Roma mi pare di poter dire mi rivolgo a Filippo Melchiorre che l'identikit è quello di giocatori giovani giovanissimi in alcuni casi e anche di grossi club qui parliamo di squadre importanti parliamo della Roma parliamo di Tonali che giocava nel Milan parliamo di Zagnolo che giocava nel Roma ora sono addirittura in Inghilterra quindi davvero inquietante quello che sta accadendo siamo in una prima fase diciamo una fase di indagine però se fossero vere queste notizie fanno venire molta rabbia a chi come dire è tifoso a chi piace il calcio a chi come dire ha vissuto sui campi di calcio l'ho fatto da arbitro categorie inferiori però fa venire tanta rabbia e penso a tante persone che soffrono piangono si emozionano di fronte a una partita diciamo di calcio ecco se fossero vere queste notizie ovviamente bisognerà utilizzare tolleranza zero il pugno di ferro nei confronti di questi ragazzi che hanno avuto tutto cioè sono famosi sono ricchi sono diciamo atleti e si permettono di fare una cosa del genere è una cosa sulla quale bisogna essere molto drastici io ho annunciato già con un'agenzia che come componente della commissione sport come dire coinvolgerò il presidente Gravina e per fare in modo come dire che i controlli siano sempre più serrati sempre più seri sempre più importanti perché queste cose come dire rovinano il diritto di sognare che penso che sia la cosa più bella per un tifoso ti saluta siamo in diretta insomma è una community quella di TV sport il notaio D'Alessio presidente del Polignano che è in visione e alla scuola il grande Titti il grande Titti anche lui un grande sognatore di calcio un grande sognatore di calcio Luca Scandale invece va precisato una cosa che questi ragazzi avrebbero scommesso sul calcio cosa che non è consentita in nessun modo alcuni addirittura attraverso delle piattaforme clandestine praticamente non riconoscibili quindi in quel caso subentra anche il discorso del penale nell'altro caso scommettere sulle squadre sulle partite di calcio riguarda la giustizia sportiva noi però abbiamo vissuto persino qualcosa di peggio di quelli che giocavano contro la propria squadra non lo so non lo sto seguendo ma non credo scommettessero sulle loro non è ancora chiaro non è ancora chiaro questo questo sarà oggetto di indagini non per sviluppare perché quella sarebbe eventualmente una gravata il peggio del peggio il peggio del peggio però noi abbiamo vissuto il peggio del peggio del peggio noi noi chi addirittura determinava il risultato credo che peggio di quello che è successo a noi sia impossibile però se posso io ricordo un'intervista a un secondo portiere di una squadra tedesca che diceva che nella squadra era così sfuggita di mano questa vicenda delle scommesse qualche anno fa che avete presente il nastro bagagli quando arrivano i borsoni degli aeroporti scommettevano 10.000 euro su qual era il primo e qual era l'ultimo diciamo quindi una mania esatto non lo so non credo che ci sia un atteggiamento legato alla questione della scommessa anche per il denaro credo che sia quindi credi l'utopatia malattia insomma io la definisco ignoranza cioè dei ragazzi che hanno tutto che hanno 20 anni che si trovano in un contesto di questo tipo così meraviglioso come il calcio che in maniera ignorante decidono diciamo ci furono anche giocatori molto noti che furono i sociologi è successo in passato Paolo Rossi gli altri i sociologi definiscono questa fattispecie il malessere del benessere quando c'è tutto come dire perdi di vista il valore della vita le cose diciamo le cose semplici e questi sono degli esempi come dire che dovrebbero portare a bonificare quel sistema perché quello non è il calcio quelle non sono le cose di cui noi ripeto ci emozioniamo è un'altra cosa Jessica ci sono messaggi si ci sono diversi messaggi riguardo invece alla nazionale vogliono capire dove è che alloggiano se noi sappiamo dove devono alloggiare perché effettivamente molti vogliono portare i figli a vedere dai fate un ragionamento logico un albergo sicuramente un albergo barese deve essere sicuramente grande deve essere sicuramente dalle parti di qualcosa che serve per viaggiare quindi fatevi due conti allora ci sono i reali di mezzo ci sono i reali di mezzo 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta per non farci mancare nulla oggi è arrivata la notizia che l'attaccante del Bari Marco Nassi è stato rispedito a casa dall'Under 21 perché ha bisticciato con un compagno di squadra tra l'altro c'è un suo messaggio che ha postato sul suo profilo Instagram che dice che si è già scusato privatamente ma ci tiene anche a farlo tramite il suo profilo ha un grande rispetto per i valori dello sport e della maglia azzurra gli dispiace tanto per quanto accaduto nel ritiro della nazionale questa deve essere e sarà per lui un'occasione di crescita un'occasione l'importante si può sbagliare l'importante è rendersene conto e chiedere subito scusa come ha fatto fondamentalmente Nasti il Bari è vero che c'è la nazionale ma sono ore abbastanza movimentate per il Bari che ha cambiato l'allenatore via Mignani dentro Marino vi chiedo il vostro punto di vista la mia personale opinione è che vi è il principio della proprietà permutativa cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia o potrebbe non cambiare poi sarà il tempo ho letto ho visto un tuo video si dice il tempo al tempo l'ardua sentenza rispetto a questa cosa c'è bisogno che come dire il presidente della Orentis come dire porti avanti una campagna di verità cioè dica che cosa vuole fare del Bari ecco io lo dico c'è un da tifoso del Bari perché e soprattutto c'è bisogno come dire che racconti di più quello che è la sua mission sul Bari calcio fino adesso mi pare che non lo abbia detto in maniera esplicita ecco perché lo invito a farlo perché i Bari si meritano rispetto i tifosi meritano rispetto abbiamo sofferto tanto abbiamo sofferto sotto la pioggia l'ultima partita che è un giorno indimenticabile nel senso negativo della parola fu una cosa imprevista sullo stadio all'improvviso all'improvviso io ero in Curva io ero in Curva Nord con il sottosegretario alla salute e stavamo perdendo la salute in quel momento perché pioveva a dirotto e quindi è stata una giornata però nonostante questi baressi nonostante quello che lui diceva prima noi ritorniamo a Tifar però c'è bisogno come dire di avere delle risposte chiare e certo tifosissimo Luca Scandale e allora una premessa che è scaramantico anche da morire da morire con lei abbiamo visto la partita Cagliari-Bari e lei disse a un certo punto che avremmo segnato al 92esimo e segniamo al 93esimo bisogna darle atto però ha sbagliato i due minuti una premessa io penso che ciò che è accaduto l'anno scorso abbia a che fare con un'alchimia positiva che si era creata fra la squadra e la piazza tutti nessuno escluso cioè le critiche nei confronti dell'allenatore c'erano anche l'anno scorso meno rilevanti ma esistevano però i tifosi anche in quel gennaio maledetto comunque applaudivano e tifavano la squadra quindi il segnale di allarme per me è arrivato quando di Cesare che è un grande te lo ricorderai penso a Parma ha detto sento negatività e come si dice come dicono quelli bravi sembrava come se si fossero rotti i bicchieri e quindi diciamo lo scopo del gioco in questo momento è far ritornare questa alchimia perché hanno probabilmente performato anche al di là dei loro limiti sportivi i giocatori l'anno scorso i giocatori l'anno scorso camminavano a 3 cm da terra a Bari erano degli idoli indiscursi dopodiché nel merito se si doveva fare questo è il momento 15 giorni di pausa e se vogliamo essere ottimisti abbiamo visto il Genoa e il Cagliari da una parte ha avuto un senso molto forte dall'altra i numeri dicono che è un esonero atipico nel senso che comunque viene sollevato dall'incarico l'annatore che ha vinto a primo colpo la Serie C che il scorso anno è andato a lunghi dalla Serie A e che quest'anno comunque con un mercato in grande affanno ha perso solo una partita sul 9 e l'ha perso col Parma non c'è discussione su questo i numeri sono un po' in controtendenza diciamo però che il discorso del Genoa e del Cagliari l'anno scorso ci fa ben sperare a un certo punto non mi ricordo più o meno diciamo intorno alla decima giornata furono cambiati questi allenatori e le cose andarono in quella direzione l'assunzione di responsabilità fortissima in questo momento del direttore sportivo perché il direttore sportivo come ha detto lui ci ha messo la faccia ci ha messo la faccia e ha ribadito che questa squadra secondo lui sulla carta è più forte dello scorso anno quindi in qualche maniera un allenatore e l'ha dimostrato con i fatti crederci perché se cambi l'allenatore in queste condizioni vuol dire che ritieni che la squadra non sia la metà classifica ma sia una squadra speriamo di sbagliare speriamo di sbagliare no ma noi gli auguriamo il meglio a Marino diciamo che cosa dobbiamo dire noi siamo tifosi io spero una promozione diretta anche se diciamo è quello che è la possibilità le squadre davanti corrono e sono delle corazzate mi sa che da tre anni non allenava più due anni due anni abbondante si ha avuto l'ultima esperienza a Crotone andiamo con il posto pubblicitario e poi torriamo insieme Bari e Nazionale tra poco questa è una storia che conosci già è una storia di valori una storia di qualità una storia di vicinanza una storia di convenienza una storia di amicizia una storia che diventa ogni giorno più forte che mai prodotti a marchio Sigma nella tua storia da sempre nella tua spesa da sempre scopri i nostri negozi e le nostre offerte su www.sigmapuglia.lombardi.it segui i supermercati Sigma Puglia su Facebook e Instagram Codes società di ristrutturazioni edili interni ed esterni installazione e manutenzione di impianti di condizionamento riscaldamento idrici e fognari dalla progettazione alla manifattura Codes SRL e a Modugno in via Brescia 4D mail codessrl.info chiacciolagmail.com whatsapp 375 817 0098 Bentornato City Cashback a City Moda fai shopping accumula punti e ricevi oltre al 10% City Card fino al 20% in buono sulle collezioni autunno e inverno 23-24 seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia oppure su Facebook VMB Viaggi pacchetti vacanze a quote fisse vantaggiose vienici a trovare in una delle nostre agenzie siamo a Bari in via Brigata Regina 72 via Giuseppe Fanelli 221 via Andrea da Bari 69 in via Cerillo 2 barabia Valenzano vmbviaggi.it Eccoci insieme terza parte del Biancherosso TB Sport io aprirei le telefonate chiederegine se possiamo prendere qualche telefonata allo 080 501 9998 Jessica messaggi? tantissimi messaggi tra l'altro molti divertenti perché dicono Nasti non ce l'ha fatta voleva subito conoscere il nuovo allenatore e si voleva allenare con lui quindi è rientrata a posta insomma va fatto da delle scande scienze per questo motivo va bene prendiamo qualche telefonata pronto? pronto? eccoci ciao buongiorno buongiorno a te penso due domande sono sì la prima è quella che è la più importante sì che nel tempo non sospetto io asserivo che nel caldo ci sono sia i calciatori che gli arbitri perché poi in avvenire sentiremo anche i fatti che fanno gli arbitri che ci stavano delle scommesse e che loro erano i primi a scommettere quindi adesso si è avverato seconda domanda che le faccio per quanto riguarda il nuovo tecnico del Bari sto vedendo una freddura generale ma noi non abbiamo ancora visto questa persona Bari cosa sarà in grado di fare perché giudicarlo appunto a voi la risposta diciamo che comunque c'è un po' di in questo momento un ambiente molto tiepido insomma intorno al Bari e tutti chiaramente sono passati all'entusiasmo lo scorso anno una situazione che è ben diversa poi sull'altro aspetto le scommesse in un ambiente così vasto come quello del calcio le pecore nere sono dappertutto anzi devo dirti la verità non perché ci sia Filippo che come dire ha nel DNA quello dell'essere arbitro però io continuo a dire che possono anche sbagliare possono essere anche scarsi ma io sono la stragrande maggioranza degli arbitri per me sono assolutamente corretti ed onesti poi anche lì magari ci può essere il caso di qualcuno qualche pecorella nera c'è sempre però sono isolati abbastanza presto c'è stata anche una storia di qualche tempo fa sui rimborsi ricorderei quella cosa di infatti sono spariti insomma mentre il calcio spesso inteso come calciatori si tende a voler far rientrare dalla porta secondaria chi ha sbagliato il sistema è perfetto nel senso che in qualsiasi sistema ci sono le pecore nere l'importante è una sanzione certa chi sbaglia paga questo è il tema poi non c'è nessun sistema perfetto ma c'è un sistema nel quale se tu hai delle sanzioni certe butti fuori la scoria peraltro adesso con bar telecamere bar telecamere io credo che anche se ci fosse un'arbitura in malafede non potrebbe attuare i suoi piani perché insomma ci sono telecamere dappertutto rivitilazioni da miliangolazioni la decisione non è più presa da un solo soggetto ma da più soggetti nello stesso tempo quando dicevo tolleranza zero e pugno di ferro in apertura chi se un giocatore sbaglia e siamo certi che ha sbagliato deve essere fatto fuori completamente non gli si può dare tre anni quattro anni cinque anni e poi rivederlo sui campi contro il Bari non è possibile è una cosa che non è possibile perché è certo chi sbaglia e fa quegli errori e guadagna tanti soldi tra le altre cose non è proprio tollerabile una cosa di questo tipo ecco perché il calcio si deve attrezzare per avere delle regole certe e chiare di sanzione per chi sbaglia questo è giusto ma io su questo diciamo ho una visione un po' alla Cesare Beccaria nel senso io credo nella funzione educativa della pena cioè nel senso che un ragazzo di vent'anni che commette un errore se becca due anni tre anni probabilmente può rappresentare un esempio diciamo in qualche maniera rientrando nella radiazione Beccaria in questo caso per il calciatore no cioè non è possibile ragazzi c'è gente ripeto tanti soldi interessanti punti di vista no ma io dico una cosa che no non la dico non la dico non la dico non la dico va bene telefonata telefonata pronto? ciao 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 prego in studio innanzitutto il prima la prima riguarda il Bari sì lasciamo lavorare in pace il nuovo allenatore sì va bene con grande tranquillità e poi parleremo tutti quanti noi poti e voi mattina la seconda Enzo sono diverse volte che io cerco di collegarmi sono un disabile mi rivolgo anche al senatore Melchiorre è possibile mai che noi i cittadini non vediamo vanti dove dobbiamo andare al bagno se non possiamo aspettere alle scale dei bagni è in quel sito grazie e questa è una questione che riguarda la fruibilità anche dei servizi igienici allo stadio San Nicola per i disabili certamente è un problema serio con l'amico scandale si diceva prima nelle città europee il disabile non è disabile perché la società non lo rende disabile è un fatto culturale voglio pensare a una mia collega Giussi Versace che è una senatrice della commissione sport purtroppo in questo momento sta in ospedale e le auguro di guarire il più presto possibile e senza gambe però è molto più viva è molto più abile di tante persone è una persona straordinaria ma veramente bella 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 da tutti i punti di vista ecco e lei potrebbe essere un testimone per far intendere come dire che la disabilità se in una società normale è una condizione come dire di vita fa parte e lei ripeto corre molto di più delle persone diciamo abili pensa in positivo molto di più è un insegnamento di vita anche quello però convengo con quello che diceva il telespettatore c'è bisogno come dire di rendere più fruibile tutti i servizi specie allo stadio per far sì che anche loro vivano la normalità diciamo di essere tifosi io concordo con Filippo la vita è anche una questione di punti di vista cioè bisogna cercare ogni tanto di mettersi dall'altra parte anche perché può capitare a ciascuno di noi tante volte diciamo guardare delle scene in cui persone con la sedia della terra magari hanno gli scivoli occupati da qualcuno che ha parcheggiato l'automobile ti dà la sensazione di un'assenza di empatia al di là della multa o della diseducazione o del tema della punizione appunto di chi parte ti dà la sensazione diciamo di non riuscire a mettersi nei panni di una persona che ha avuto una sfortuna e che diciamo facendo le corna può capitare a chiunque tu non ricordi tanti anni fa io ho fatto l'assessore ai diritti civili e sociali no lo ricordo no no non ricordi quello che sto per dire e andai in Provenza in Francia e vedi un cartello che mi piacque tantissimo scritto in francese se vuoi il mio posto prenditi il mio handicap veni a Bari e lo feci fare in tutta la città infatti se ci fate caso su tutti i cartelli e sta scritto assessorato ai diritti civili l'assessore ero io perché lo vedi fare lì perché perché vale molto più seconda giunta di carne a brescia certo vale molto più di una multa il parlare della dignità del disabile ecco e anche quello diciamo va cambiato l'approccio culturale rispetto a una cosa di questo tipo quindi poi l'hanno copiato tante altre città in Italia però lo rubai io nel senso bello con la parola diciamo dalla Francia questo messaggio e le cose positive vanno anche copiate cioè certo perché no infatti a volte non bisogna inventarsi nulla basta copiare bene insomma allora altro video legato all'arrivo della nazionale con credo ex giocatori del Bari o giocatori nazionali che si preparano alla partita di Bari vediamo cosa hanno detto ciao ragazzi pochi giorni e saremo a Bari per la nostra partita contro Malta sappiamo che si sta andando verso il tutto esaurito l'atmosfera sarà sicuramente fantastica la Puglia è una terra meravigliosa il popolo pugliese ha sempre regalato alla nazionale una grande accoglienza ci vediamo sabato a San Nicola e sempre Portazzurri e questo è anche questo se vedete sono poi le scritte in Puglia e come mi dicevi tu cioè noi Filippo cerchiamo con la nazionale di fare qualcosa vedrete in bordo campo durante la partita che sarà comunque vista in diretta nazionale e internazionale e di promuovere la Puglia in maniera simpatica con dei volti noti e speriamo di farcela certo diciamo quello che sta succedendo discutevamo con Filippo anche in particolare a Bari dal punto di vista turistico è qualcosa di senza precedenti diciamo al di là delle opinioni poi di ciascuno di noi politicamente dobbiamo lavorare lo dicevamo per fare in modo che non diventi una moda venire diciamo in Puglia a Bari ma come dire diventi come dire a fecondità a fecondità ripetuta non come la Sardegna come l'Emilia Romagna diciamo in qualche maniera e in questo senso per esempio voglio fare riflettendo l'operazione che ha fatto la Premier Giorgio Meloni nel portare il G7 in Puglia è un'operazione di marketing stupenda pensate che impatto avrà noi negli anni è chiaro che per fare una cosa del genere noi l'abbiamo fatta innamorare della Puglia lei a 7 anni viene in Puglia in maniera perché è innamorata della Puglia però ecco ci vuole quindi non è un caso che fosse Ceglie Messapi che era già stata degli altri anni degli anni precedenti ovviamente sempre adesso è Presidente del Consiglio lo sanno tutti però lei è già da tanti anni che viene in Puglia ed è innamorata della Puglia ti dico questo intanto grazie alla Presidente del Consiglio che ha scelto la Puglia per fare il G7 ma vengo da Rimini da una fiera del turismo a Rimini e lì sono bravi e sì anche noi ci difendiamo e ho parlato con la Presidente dell'Enit la nuova Presidente dell'Enit e stiamo cercando di fare in modo che la Puglia sia protagonista anche del G7 ovviamente arrivano i 7 capi di Stato più importanti del mondo ci sono i servizi di intelligence di tutto il mondo c'è un'organizzazione che è in capo alla Presidenza del Consiglio non è certamente però che possano magari fare un'esperienza pugliese i grandi o gli accompagnatori o fare questo Puglia promozione anche l'intesa con il Presidente della Regione è già d'accordo anzi dacci una mano su questo non avere dubbi stavo dicendo perché dico che sono più bravi perché la Puglia ce lo diciamo tra di noi in maniera riservata di fronte di telespettatori è molto più bella dell'Emilia quindi loro sono più bravi nel senso che nonostante l'Emilia non abbia quelle cose belle che noi abbiamo e quindi per te è più facile anche se sei bravo non sto dicendo questo è più facile come dire giocarti la partita perché la Puglia è bella e dobbiamo essere orgogliosi di quello che è un complimento lo porto a casa però noi siamo anche giovani dobbiamo saperlo dal punto di vista turistico abbiamo 20 anni come regione l'Emilia Romagna negli anni 60 vi ricorderete i tedeschi che scendevano non ci sono quindi diciamo l'Italia è piena di posti belli viva l'Italia però noi come competizione diciamo da qualche tempo cominciamo a dire sentirevi parlare qualche minuto mi sono quasi dimenticato di essere al TV Sport è gradevolissimo il vostro discorso parlate di altre cose è un arricchimento per tutti andiamo in pausa pubblicitaria per ultima parte della nostra trasmissione quando è il momento di cambiare il mondo quando è il momento di cambiare auto Suzuki tecnologia da incentivi Suzuki solo da Car Service Bari Viale Yatija 243 Bari Suzuki Car Service Bari nel cuore di Bari l'evoluzione ci ha voluto viaggiatori il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono una sola pagina Follow Bus viaggia in tutta sicurezza tra Puglia Basilicata e Campania prenota subito su baseniccolis.it per cambiare tutto non devi cambiare niente perché siamo noi ad essere cambiati per te con nuova ID3 grazie a noleggio IDAN hai tutto incluso da 449 euro al mese con anticipo zero vieni a scoprirla da Volkswagen Centrum Bari Arrivano messaggi anche insomma anche sulla mia chat personale Giuseppe scrive parlavamo della difficoltà dei disabili anche ad usufruire dei servizi igienici dello stadio e dice ho un figlio disabile ma nessuno potrà capire se non lo prova è tutto inutile è un po' come dire quasi un urlo di resa da parte di Giuseppe però è giusto insomma anche queste intermissioni servono proprio a sollevare il problema 080 501 9998 per i vostri interventi in diretta intanto vogliamo farvi vedere delle immagini di Bari che si colora d'azzurro per l'arrivo dalla Nazionale in questi giorni siamo andati anche a caccia un po' di vetrine vetrine colorate colorate di azzurro in attesa che arrivi la Nazionale che ripeto atterra Bari alle 18.30 poi la carovana azzurra sarà al San Nicola i giocatori sul campo per la passeggiatina sul manterbo sullo stadio mentre ci sarà la conferenza stampa di Spalletti alle 19.15 credo che ancora prima di Spalletti c'è anche la conferenza stampa di Michele Marcolini che torna al San Nicola ex giocatore del Bari il Bari di Fascetti ora torna da commissario tecnico di Malta qui vediamo ancora ecco lo stadio molto bello diciamo questo effetto dello stadio colorato di azzurro sembra davvero un'astronave qualcuno ha detto sembra più che altro la cosa ha detto il fornello dove si mette il caffè praticamente però diciamo questa è una battuta di notte veramente splendida benissimo il giorno sono passato tornavo da Bitrito e ho visto questa immagine favolosa qui qualche immagine abbiamo visto anche quelle bianca e rossa memorabile di Totò Schillaci però è donata l'1-0 con l'Aus sì con l'Aus io ho parla le maglie se le vogliamo rivedere per chi si è collegato in questo momento intanto però voglio farvi vedere un video che mi ha inviato l'amico Giuseppe Corcelli sulla chat dei tecnici di Telebari l'ho mandata prima è un video che ritrae Marco Lini che ha avuto contatto con Giuseppe Corcelli tra poco lo mostriamo va bene adesso lo facciamo vedere anche per vedere insomma nel frattempo il ritorno di Marco Lini perché Malta è da ieri a Bari e oggi c'è la conferenza ecco qua vediamo 4-0-1-2-mila la partita non me la ricordo è anch'io è passato è passato troppo tempo è la collezione tra le maglie più importante dì qualcosa a Giuseppe dai dì qualcosa a Giuseppe è emozionante riavere sotto mano mamma mia tanti guarda c'è i segni c'è i segni dell'utilizzo bello bello guarda sono quelle cose che mamma mia si fa basta un oggetto per tornare indietro con la memoria per tante 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 cose tante cose i brividi bellissimi momenti bellissimi ricordi solo qualcuno può capire non tutti non tutti possono capire quello che siamo provati non lo so però però è la cosa è la cosa il calcio è bello io l'ho sempre detto sono stato fortunato ad aver fatto quello che sognavo di fare da bambino e il calcio è stato lavoro ma è stato emozioni alla fine sono quelle che rimangono sono quelle che poi legano le persone per sempre perché alla fine questo è bello grazie Giuseppe Corcelli per questa chicca la forza di una maglia era un buon giocatore bel piede molto dinamico insomma le belle fascette erano buona squadra poi questa è una maglia molto bella molto bella sì mi ricordi 080 501 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta dovrebbe esserci anche delle immagini sulla partita delle vecchie glorie vediamo se riusciamo a far vedere anche questa ma c'è una telefonata pronto? pronto? eccoci ciao pronto ciao Enzo ciao 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 senti Enzo ti voglio dire due cose brevemente la prima riguarda le scommesse per mia esperienza diretta per un allievo di cui non farò nome ti posso garantire che tempo fa fu Monti alcuni anni fa fu coinvolto nelle scommesse che mi confidò e fu anche squalificato quindi per cui questo mi collego anche a quanto successe molti anni fa quando le macchine della polizia erano analizzate ai tempi di Giordano dei Rossi eccetera quindi questo fenomeno purtroppo diciamo esiste non lo so adesso però è sempre esistito e anche diffuso tra i giorni chiudo questo la seconda cosa invece riguarda il Bari secondo me Mignani paga non tanto le sue colpe io le attribuisco solo la colpa di non aver dato con il materiale a disposizione un gioco alla squadra quello fondamentalmente cioè una squadra che non tirava e non segnava proprio perché giocava abbastanza male ma la maggior parte delle responsabilità si piace dirlo soprattutto alla società che non ha voluto investire sono d'accordo con Mentiore che dovrebbe chiarire qual è l'obiettivo vero e soprattutto anche al direttore sportivo perché non si fa una campagna acquisti anche se con pochi soldi riducendosi all'ultima ora della fine di agosto ecco questo volevo dirti saluto i tuoi ospiti arrivederci grazie grazie Ettore per il tuo intervento come sempre molto equilibrato ci sono altri messaggi Jessica? no tutto il riguardo per esempio come si è saputo addirittura si è venuto a scoprire questi nomi di questi giocatori che hanno tutto è nato a Torino un'inchiesta sulle scommesse clandestine è un fenomeno molto ampio perché davvero ho letto oggi ci sono centinaia e centinaia di piattaforme per il gioco illegale e tra i nomi di quelli che scommettevano è spuntato il nome di 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 fagioli e di lì i contatti di fagioli con altri calciatori le chat oggi è tutto è tutto registrato qui infatti si parla già di coinvolgimento di dieci calciatori e poi sai bisogna capire anche l'effetto domino cosa potrà accadere quindi immagino che sarà anche una pratica normale per loro per parlare con così tanta naturalità oppure magari non erano con grande superficialità insomma del resto sono ragazzi consapevoli magari di quello che esatto poi riguardo invece il Bari molti tifosi continuano a dirci che ormai non c'è più quella illusione quella quello che che qualcosa si è perso siamo tornati sulla terra esatto riguardo l'anno scorso direi che è abbastanza evidente lo scorso anno già di questi tempi avevamo una squadra quasi prima in classifica se non prima seconda era il periodo migliore del Bari era un'alchimia diversa lo diceva bene c'è l'accordo sì in questi tempi vincevamo sia due col Brescia ricordo delle partite straordinarie ed è la cosa la sensazione la sensazione che avevamo è che quando il Bari andava in trasferta avremmo vinto tutte le partite cioè avevi questa sensazione col Bari in trasferta in particolare adesso c'è una sensazione diversa è contrario ritornando a quel discorso sono contento anche che Filippo è d'accordo cioè anche nelle sconfitte i ragazzi uscivano tra gli applausi vi ricordate? adesso sono arrivati i primi fischi nello striscione che c'è stato la società innamorata l'assenza di programmazione la prima frase era sulla maglia sudata cioè quando tra la squadra e la piazza iniziano queste cose non è mai un bene quindi la nostra ambizione la nostra speranza è che Marino ci riporti all'anno scorso perché ragazzi noi siamo tifosi cioè poi alla fine quello che noi speriamo io e Filippo è che le vinca tutte arrivi primo che vi devo dire? io mi rivolgo ai tifosi della nazionale il più bel ricordo della tifosa della nazionale la partita memorabile della tua vita della tifosa nazionale qual è stata? beh quando abbiamo vinto i campionati diciamo le partite più belle fu quella di Tardelli quando fece quel gol che è rimasto proprio nel cuore non mio ma di tutti il gol più bello della storia la rabbia la rabbia e l'orgoglio la rabbia e l'orgoglio infatti beh io ho un ricordo indimenticabile perché nel 2006 facemmo un aereo Bari-Monaco Monaco poi con la macchina a Berlino e io sono tra i fortunati che ha visto la finale allo stadio con la Francia e devo dire unisco a questo anche il più brutto ricordo perché nel 2000 ero in Erasmus in Belgio vedi tutte le partite della nazionale compreso la finale a Rotterdam quella che perdemmo col gol di Virtua il gol di 3-6 il gol come si chiama il gol killer il gol il gol il gol si fermava la partita dopo il gol eravamo inventati 1-0 quella sconfitta con la Francia è stata ampiamente ripresa nel 2006 ma è difficile dimenticare noi eravamo abbracciati e cantavamo campioni ovviamente imprudentemente quando all'ultimo minuto del recupero pareggiò la Francia e tu Jessica il tuo ricordo io se vuoi ti dico quello della Spagna lo stavo andando a rivedere di nuovo quando abbiamo vinto contro l'Olanda Sudafrica che abbiamo vinto poi il mondiale Spagna Sudafrica tra l'altro è stato molto carino perché una delle persone che commentava la partita ha detto Iniesta non so se vi ricordate i giocatori Iniesta Iniesta è stato a segnare questo gol lui ha detto Iniesta della mia vita gol è iniziato a gridare quindi è stato molto domani Jessica per chi ti no no io ti fò per l'Italia ovviamente quando non si gioca quando non gioca contro la Spagna però ti dispiace sarà una prigioniera politica non la facciamo uscire di qui voglio farvi vedere delle immagini che abbiamo registrato ieri a Di Cagna Brescia perché questi giorni si celebrano le giornate mondiali della salute mentale con lo scopo di aumentare la consapevolezza di problemi di salute l'associazione di Valente vediamo le immagini grazie credo alla regia se possiamo mostrare queste immagini quindi iniziative che servono ad aumentare la consapevolezza dei problemi di salute mentale mobilità di sforzi a sostegno della stessa contro ogni tipo di stigma sociale in occasione della giornata della salute mentale la fondazione Valente ha organizzato una partita tra vecchie glorie un 7-7 con le vecchie glorie bianco-rosse che come al solito hanno aderito con entusiasmo e senso di responsabilità a questa gara che è servita per appunto a lanciare un messaggio molto forte tu non ricordi l'anno scorso nonostante la mia pancia sono andato ad arbitrare io quella partita ah sì? quindi per questo va bene era il protagonista è un po' come la disabilità lo stigma sulla salute mentale è molto forte però non so se avete letto quello che ha detto Fedez persona di tutto successo di grande può avere quello che vuole che ha vissuto una depressione importante anche prendendo dei farmaci cioè anche questa è una di quelle questioni di ignoranza perché di salute mentale si soffre si vive c'è tanta gente che lo nega ma è importante che il tb sport faccia presente con la sua popolarità questo questo che è un malessere avete visto anche dopo la pandemia il bonus psicologo cioè è necessario quello che abbiamo vissuto io penso ai ragazzi tra i 17 e i 18 anni ha segnato tantissimo una battutina un tifoso dice che quando ti sente parlare e si chiude gli occhi pensa che ci sia Bruno Vespa in tv te l'hanno mai detto questo? no no mi hai intervistato varie volte Vespone fuori al senato è un'altra cosa forse assomitevamo non lo so dobbiamo concludere mi sarei piaciuto andare ancora avanti ma davvero è stata una puntata diversa da solito molto gradevole grazie al senatore Filippo Melchiorre grazie a voi e complimenti sei sempre molto e sei come il vino grazie sei più bravo col passato grazie grazie a Luca Scandale direttore di Puglia e di questa estate che vorrei non finisse mai dico di Negramaro questo è il terzo della canzone stiamo allungando la stagione e devo dire probabilmente anche a ottobre ci darà dei bei risultati come quelli che abbiamo preso se fosse domenica vado al mare vado a fare un bagno grazie a Jessica grazie mille a voi forza azzurri forza azzurri e forza a Bari ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti